La TV sta cambiando. È iniziata la riorganizzazione delle frequenze nelle regioni adriatiche e sud Italia. Se nel tuo comune è in corso il cambio delle frequenze, potresti non vedere alcuni canali. Risintonizza la TV per continuare a guardare i tuoi canali preferiti. Per verificare la data esatta di avvio nel tuo comune, vai sul sito, chiama il call center o scrivici su WhatsApp. Grazie.